Fi Only 2016, sesta edizione di questo convegno, le prime impressioni di questa mattinata? Allora come al solito questo qua è il nostro secondo anno al convegno Fi Olli, devo dire che come sempre organizzato in maniera egregia, ci sono un sacco di partecipanti, pieno di stand, quindi si perannuncia un'altra edizione ottima come quella dell'anno precedente. Che cosa pensate come società per interessare i consulenti? Allora noi abbiamo, noi siamo una società di gestione del risparmio attiva, abbiamo quindi il nostro focus è sui fondi di investimento, abbiamo creato due grosse innovazioni nel nostro campo, sono degli optional che sono dei meccanismi automatici che vengono agganciati alle posizioni dei fondi dei clienti e vanno diciamo a smorzare quella che è l'emotività classica a cui normalmente il cliente va incontro. Questi meccanismi vanno a facilitare di molto la vita del consulente indipendente perché vanno a dargli la possibilità una volta creato questo meccanismo di dedicarsi anche all'altro tipo di attività che normalmente un consulente indipendente ha, quindi non solamente la parte gestione del risparmio. Un'altra innovazione molto interessante invece è quella del nostro piano d'accumulo dinamico che si chiama Gimme5 che vi invito in generale a scaricare tutti, si trova su iOS, su Android e su Windows come store e permette a chiunque di cominciare a entrare nel mondo del risparmio partendo da dei piccoli investimenti che possono anche essere di un minimo di 5 euro per poi dopo andare a crescere nel tempo. Si fa tutto dallo smartphone, i costi non esistono a parte quelli di gestione normali e ti permette proprio di piano piano crearti una ricchezza nel tempo. Quindi questo secondo me ai consulenti indipendenti può essere sicuramente uno strumento molto valido. Ecco parliamo oggi di futuro, si parla di come cambia questa professione e voi che progetti avete per esempio per il 2017, quindi l'anno prossimo? Allora il 2017 noi stiamo molto spingendo sul prodotto che vi ho detto prima del Gimme5, stiamo rifacendo anche il look all'applicazione, stiamo inserendo delle nuove feature che andranno a migliorare l'esperienza di utilizzo dell'utente, quello che stiamo studiando è addirittura riuscire ad andare a prendere i resti delle persone quando magari vanno a pagare oppure la possibilità di andare a arrotondare una volta caricato il sistema di pagamento che può essere una carta di credito, il banco, ma altro altro, quando si va a pagare normalmente una cifra di 11,80 euro, si va a arrotondare al 12, quel 20 centesimi vanno a finire direttamente sulla posizione del cliente. Tanti piccoli arrotondamenti che poi vanno a creare piano piano nel tempo una bella base, una solida base.